Musica Siamo ritornati come ci aveva promesso Lorenzo alle riprese del film sugli annunali e oggi ci sono tantissime comparsa che abbiamo visto è una cosa veramente molto interessante è sempre molto grande questo film a me piacerebbe intanto che tu spiegassi ci dicessi qualcosa di più sulla produzione per esempio le comparsi, gli attori Il film è come ho sempre detto un film indipendente quindi il budget, la produzione è quello che è quindi bassissimo si cerca di rendere il film il meglio possibile come abbiamo fatto con il precedente film come i trabocchetti e il bandino che ha reso molto bene sullo schermo pur avendo un budget di 1000 euro quindi il film è andato quindi quando noi abbiamo presentato il film anche a Roma i trabocchetti e il bandino la gente, insomma del settore la gente del mestiere mi dice ma quanto hai speso sui 20-25 mila euro? no veramente, sono rimasto sui 1000-1500 euro quindi è stata una cifra e tutti sono rimasti a bocca aperta e dice anche il mio collega Mario Mariani dice il nuovo modo di fare cinema spendere poco ma cercare di fare bella figura è un po' quello che spero continuano a fare iniziano a fare nuovi registi giovani come me indipendenti fare bella figura al cinema, alle persone con poco e rendere come se fosse veramente un film di un livello maggiore, un livello più alto certo, tra l'altro hai citato il trabocchetti e il bandino vi consiglio di andarlo a vedere e di leggere soprattutto il libro il romanzo perché è veramente interessante e dunque oggi abbiamo visto che come dicevo c'è diversi attori diverse comparse vediamo un pochettino tanto di spiegare che cosa avverrà oggi quale sarà la ripresa, il clou della giornata oggi facciamo le scene della Genesi cioè la Genesi non come è vista non come è vista dalla Bibbia ma come è vista dal libro perduto del Dio Enchi cioè queste persone che arrivano su Tiamat, sul pianeta Terra iniziano a costruire i primi insediamenti qui alle spalle vediamo le prime case cominciano a costruire la prima piazzetta del popolo si accorgono che non ce la fanno iniziano iniziano a ribellarsi iniziano a ribellarsi la Genesi è proprio questa cioè vedere le cose non crearle ma vederle loro vedono per la prima volta il Sole che tramonta e sorge che sul loro pianeta Nibiru non vedevano perché Nibiru ha un'orbita ellittica di 3600 anni quindi il Sole loro vedono quindi venire qui e avere una giornata di poche ore con il Sole che tramonta e sorge per loro è una cosa aiuto, dice cosa sta succedendo è una calamità enorme dice no Alalu che è l'ex re del pianeta Nibiru al posto di Anu li tranquillizza e dice guardi no è niente vi spiego cos'è quindi sarebbe il primo giorno creò la luce il Sole quindi non è che creano vedono quello che c'è sulla Terra e così vanno avanti con gli animali che vedono quindi vedono gli animali e iniziano a costruire così si va avanti fino al settimo giorno è il giorno che finirono e Alalu decise insieme a Enki di porre riposo e fine al lavoro sì ecco quindi una cosa diciamo ecco gli Annunaki gli Annunaki erano sono sì prima nella così nella mitologia sumerica dopo quella siro-babilonese un po' la come dire il panteon degli dei degli dei è fatta a gerarchia era una gerarchia di divinità tra cui il dio Enki poi altri minori tra cui i gigi si chiamavano i famosi gigi che scesero sulla Terra infatti Annunaki vuol dire appunto coloro che scesero sulla Terra i filidiano esatto che appunto perché avevano dei problemi sul loro pianeta si parla dell'atmosfera la polvere esatto quindi volevano hanno scesero sulla Terra perché la Terra possedeva questo elemento che è l'oro che andava comunque scavato non si trovava quindi non ce l'era questo doveva essere poi siccome era un lavoro abbastanza pesante decisero loro si stufarono si ribellarono al re e loro potenti dissero basta noi siamo persone non che devono lavorare che devono faticare noi siamo persone nobili fra virgolette dice basta dice facciamo qualcosa e loro videro che sulla Terra c'era l'ominide quindi dall'ominide loro impiantarono il DNA degli Annunaki e crearono l'uomo dopo tanti tentativi noi abbiamo ricostruito un set ecco quello non lo abbiamo cercato come gli albori l'abbiamo proprio ricostruito in una cantina abbiamo creato la casa della vita cioè il laboratorio biogenetico di Enki abbiamo fatto l'interno di una zigurat cioè tutto d'oro le pareti d'oro con elementi moderni antichi insieme un piccolo schermo stile televisore per parlare con il reano insomma tutto quello che si pensa e si crede ci fosse stato nel laboratorio biogenetico ecco quindi diciamo che l'interesse di questo libro che cominciò di Zaccaria Seticino ricercatore che nel 76 pubblicò il dodicesimo pianeta e poi via via ha scritto tantissimi tra cui negli ultimi anni è uscito questo libro Perduto il Dio Enki dove appunto fa questa descrizione c'è da dire una cosa interessante che lui è stato uno dei primi studiosi del sumerico che è riuscito a tradurre diciamo che all'inizio non era molto ben visto perché lo accusarono di aver tradotto solo pezzi brani poi però quando uscì il Sumerian Lexicon che è questo testo diciamo che adesso è base per poter interpretare la lingua sumera alcuni risconti sono stati trovati personalmente come studioso d'astronomia devo dire che mi convince poco l'orbita ai 3600 kg sì quello sì che gli errori ci possono essere non siamo perfetti nessuno però insomma la storia lascia pensare molto quello lascia pensare molto vedere questa ottica diversa di come una persona può leggere la storia le vecchie scritture io ho sempre definito la storia un telefono senza fili come all'asilo a scuola elementare si fa il gioco del telefono senza fili uno dice la parola all'altro e via via la parola non è mai la stessa quindi io la storia la definisco un telefono senza fili via via alla fine c'è sì la storia come li portai l'esempio l'altra volta di Bianca Nive dei Sette Nani che Bianca Nive dei Sette Nani dopo anni e anni è scoperto veramente esistita ed era una principessa quindi era una storia vera tramandata poi tramandata voci voci alla fine è arrivata a favola così come la cosa è tutto quindi dobbiamo stare attenti insomma quando uno dice è vero o non è vero ma la verità è relativa insomma uno deve sempre lasciare il dubbio non il dubbio insomma ci sono sempre nuove scoperte che fanno bene va bene per concludere quindi diciamo che prossimo oggi siamo qui i fini abbiamo già descritto poi prossimo noi giriamo mercoledì 26 e giovedì 27 alla grotta del Bandino alia Casa Mia in Giardino giriamo lì dentro o nell'interno della grotta di Villa Bandini nel Ninfeo Settecentesco lì giriamo il consiglio reale di Ano con tutti i saggi consiglieri Enkini Gizida e tutto il resto della banda mercoledì sera facciamo anche la scena finale del film cioè questo balletto dove vengono dove tutti fanno festa per la fine la fine del film diciamo la fine della storia il film voglio dire non va fino alla fine del libro il film finisce con la partenza di Noè con la partenza di Noè con la barca che salva tutti i semi dei vari animali e li porta con sé questa è la fine del film la speranza che più in là non si poteva andare anche perché abbiamo iniziato molto presto insomma le riprese del laboratorio siamo dedicati più che altro sulla creazione dell'uomo e qui all'albori invece qui all'albori torniamo una terza volta non sappiamo ancora quando per fare la storia di Caino e Abele benissimo bello va bene allora ancora bocca al lupo grazie grazie presto grazie